Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale, ma cosa te lo dico a fare? Non vieni più in su, vieni qua in su. È ufficialmente iniziata oggi, primo giugno, la stagione balneare 2018, anche se praticamente sono già diversi fine settimana che i bagnanti hanno iniziato a frequentare i Lidi ed i bagnini, tranne quelli che aspettano ancora il ripascimento dell'arenile Vedi, Sassonia e Difano, hanno piantato gli ombrelloni ed ha attrezzato la spiaggia. E c'è anche chi ha messo ad accogliere i clienti pennuti animali dotati di parola. Il vero pienone però si attende dopo la chiusura delle scuole, quindi il 9 e 10 giugno, data in cui partirà anche il servizio permanente di salvamento in tutto il litorale, ora attivo solo domani e dopodomani. Questo fine settimana quindi prove generali di accoglienza, con i bar che hanno già fatto il pieno di bibite e gelati e di bagnini armati di buona speranza per una stagione tutta da incominciare. Il sole c'è, gente sta arrivando, oggi è il primo giorno non d'estate ma di stagione, è vera e propria, e per questo punto sembra che ci siano delle prenotazioni, perciò speriamo bene, e nell'arrivo anche del bel sole è tutto quanto. Ma anche di venerdì mattina non sono mancati i frequentatori della spiaggia, tra chi pigramente steso sul lettino prende i primi raggi di sole e chi invece in perterrito viene nello stesso posto da 40 anni. Il primo giorno di mare? Sì, sì. Il primo giorno di mare? No, sono ieri. Secondo. Secondo. Turista? Sì, per caso. Da dove? Modena. Insomma, questo mare così, di prima stagione com'è, bello? Sì, diciamo è accettabile, è accettabile. C'è un po' più di tranquillità in questo periodo dell'anno? Sembra stato così. Quindi ci si gode al massimo la spiaggia? Sì, a me piace che ci sia poco casino. C'è anche chi imbarba le temperature non ancora miti dell'acqua, fa il primo bagno, complice anche l'invidiabile incoscienza legata alla giovane età. Caldo o freddo? Freddo. E' freddo, però se non lo fa lui il bagno... Chi lo fa? Chi lo fa? Ti piace venire al mare qui? Sì. Come l'acqua... Piaciata. Però fa il bagno lo stesso. Sì, mi piace.